Volevo dire, sinceramente io pensavo solo di fare la domanda di aspettativa, diciamo in vista delle elezioni regionali, però poi come si dice il destino prende sempre il sopravvento. Il sindaco ha avuto questa idea, sinceramente non mi è sembrato bello dire di no e in più devo dire che lo faccio con grande entusiasmo perché una città di 50.000 abitanti con una tradizione antichissima, ma che soprattutto adesso ha bisogno di uno umano, insomma io sono contentissimo. Quindi metterò tutte le mie energie al servizio di San Severo come ho sempre fatto, servendo il mio paese.